Ciao a tutti, sono Luca Gambini di WMD Italia. Oggi ci troviamo nel nostro nuovo stabilimento WMD di Ripalta Cremasca. Ne approfitto nell'area cantiere per presentarvi un nuovo prodotto della linea Eco. La linea Eco di WMD Italia ha la peculiarità di contenere componenti totalmente biodegradabili, non infiammabili e non nocivi per l'operatore. Nello specifico voglio presentarvi il nostro EcoCut, olio lubrificante specifico per operazioni di rettifica, filettatura, foratura, contenente esteri sintetici e additivi anti-usura. Vi faccio vedere una tipica operazione di filettatura. Ecco il risultato finale, una perfetta filettatura senza sugli scaldamenti del materiale metallico. Vi faccio vedere un'altra tipica applicazione del nostro EcoCut, nello specifico la foratura di un materiale metallico. La linea ecologica Eco WMD è composta attualmente da tre prodotti. L'EcoFactotum, prodotto lubrificante multiuso per la protezione dall'ossidazione e lubrificazione di ingranaggi, viterie in genere. Il prodotto EcoDeGriser, prodotto per lo sgrassaggio e pulizia di metalli e superficie in genere. E l'EcoCut, prodotto specifico per la lavorazione di metalli, in particolare rettifica, foratura e filettatura. Un saluto a tutti da Luca Gambini di WMD Italia e vi consiglio di seguirci su tutti i nostri canali social e mettere like.